Questa sera, tratto sempre da Fiabe Libere, dal libro edito da Siche di Matteo Abate, abbiamo Il melograno magico e la formica piccina. Questa è una storia meravigliosa e volevo ringraziare moltissimo Matteo Abate perché mi ha dato anche un po' di informazioni rispetto alla location di questa Fiaba, che è la Sicilia, e mi ha dato qualche chicca che io mi sono trascritta per potervi trasferire. Allora, innanzitutto la Fiaba si svolge a Maloto, che è una località della Sicilia, precisamente, ve lo dico bene, è una frazione collinare di Barcellona Pozzo di Gotto, e questa è Maloto. E poi si parla di Abacena, che è un'antica civiltà misteriosa ai piedi di Tripi. Chi mi conosce sa che io e la geografia viaggiamo su due binari tutt'altro che paralleli, e quindi è bene che mi scriva perché, ragazzi, non si può sapere tutto, non si può fare tutto, quindi bene. E come vi ho detto all'inizio, per me è fondamentale avere i cartacei, ed è per quello che stasera vi leggo una Fiaba in PDF. Intanto qua dicono la mia città, Barcellona Pozzo di Gotto, ma pensate, Pozzo di Gotto, come si pronuncia? Comunque, Katia Mirabile, che è una delle mie fan dall'inizio di questa mia avventura, devo dire che abita proprio lì dove si svolge la Fiaba di questa sera. È molto lunga, io ho dimenticato di prendere un bicchiere d'acqua, che non prenderò certamente adesso, e quindi direi di cominciare. Importante ancora dirvi una cosa, che durante una Fiaba, durante questa Fiaba, ci sarà un cameo a un personaggio meraviglioso, che era appassionato di volo, addirittura era il campione mondiale di voli, che è Angelo d'Arrigo. Di Catania, ha sempre avuto una passione incredibile per i voli, per il volo e per le aquile, e durante la Fiaba capirete il momento nel quale Matteo Abate avrà dedicato qualche cosa a questa meravigliosa persona che è scomparsa nel 2006. Il melograno magico e la formica piccina In principio, Maloto era un paesino sconosciuto. Passava di là un viandante coperto di stracci in pieno inverno, con il cielo che minacciava neve. Doveva essere molto vecchio, viste le tante rughe che gli nascondevano il viso, e siccome i malotesi erano generosi, cercarono di migliorare le condizioni di quel poveretto. Chi gli diede i pantaloni di fustagno, chi gli scarponi, chi una maglia di lana con le maniche lunghe e due maglioni, e chi, infine, un cappotto di lana con l'interno foderato di pelliccia sintetica. Lo fecero rifocillare e riposare accanto al cammino crepitante. Per quella notte dormì su un soffice materasso al calduccio, a casa di Mimmo e Tania. Quando l'indomani il viandante si apprestò a proseguire, i malotesi si raccolsero attorno a lui, cercando di convincerlo a non partire, a restare per tutto l'inverno perché non era stagione per andarsene a spasso. Con ciò che mi avete donato, e la voce del vecchio risuonò cavernosa e antica, potrò affrontare bene le intemperie del cammino. Sono un viandante, e un viandante deve andare pur via, sostando solo il tempo necessario per riposare. Ma siccome siete gente di cuore e mi avete accolto come un re, io farò re voi. Vi regalo questo chicco di melograno. Piantatelo adesso. Crescerà subito in modo sorprendente, e all'inizio dell'autunno, al tempo della raccolta, chi mangerà la prima melagrana matura di quell'albero, diventerà re. E così, per ogni anno che verrà, a partire da adesso. I malotesi se la risero, e da bravi campagnoli, dediti alle cose pratiche e ai pesanti lavori della terra, non diedero retta a quell'innocua storia da vecchio nonno che meraviglia i nipotini. Se la risero tutti, tranne il mugnaio Ignazio, che ci credette? Perché la differenza tra chi fa la fortuna e chi no, di qualsiasi fortuna si tratti o si desideri, sta proprio solo e soltanto lì, nel crederci o meno. Il mugnaio ci credette, e appena fu il tempo, ad ottobre, si piazzò di picchetto sotto il melograno e controllò da mattina a sera, con scrupoloso intento, i frutti verde-rosso-cerosi che già penzolavano dall'albero. Aspettava il segnale che fossero maturi, e all'alba del settimo giorno il segnale arrivò. Uno dei frutti come se non ce la facesse più, a contenere la sua esuberanza di chicchi rossi, e desiderasse con impeto mostrarli alla vallata, si spaccò nella sua parte posteriore e mostrò ad Ignazio il suo ben d'universo, che era lì, a portata di mano solo per lui, per cambiargli la vita e trasformarlo in un re. Erano passati soltanto quattordici anni e stava per concludersi il quindicesimo dalla prima raccolta miracolosa, ma Maloto si era già trasformata in una ridente città, popolosa, affollata, e ognuno ci voleva andare. E si riusciva ormai a faticare a trovare un malotese originario, perché erano quasi tutti immigrati, e Maloto era davvero diventata una città cosmopolita, l'unico tipo di città che si possa concepire per il futuro. Come, direte voi, in soli quattordici anni, quasi quindici, un cambiamento così grande plateale? In fondo, in quattordici anni, secondo la promessa del vecchio viandante, sarebbero dovuti nascere soltanto quattordici re. Vero? Ma, per esempio, il mugnaio Ignazio, subito dopo aver pilucato la melagrana, trovò chissà come sotto l'albero una borsa piena di cento euro, e senza pensarci due volte, capendo che si trattava della profezia che si avverava, decise di ampliare il suo mulino e di costruirvi accanto tre grandi magazzini per il grano e un suntuoso castello. Così, incaricò subito il muratore Fabio, che, visto il progetto faraonico, assunse venti operai, i quali ben pagati ordinarono alle moglie di rifare il guardaroba nei negozi più chic della città di Messina. E le mogli diffusero a Messina e nelle altre città vicine la storia del melograno. Come sempre, tra milioni di cittadini scettici, sensati, pragmatici, con i piedi per terra, cinque erano rimasti abbastanza bambini da credere alla fiaba bizzarra e si recarono a maloto per accertarsi se esistesse davvero sto benedetto melograno e se portasse così tanta fortuna. Ecco quindi che dalla fortuna di un solo re scaturì quella di tanti sudditi. E più i re e i castelli aumentavano a maloto, eravamo giunti a quattordici, appunto, più crescevano i sudditi che, beneficiando della ricchezza dei sovrani, a poco a poco diventavano anche loro signorotti, che spandevano e spendevano a loro volta e riversavano fiumi di denaro e benessere sui sottoposti, che così miglioravano la loro condizione fino ad arricchirsi anche loro. E tutti erano davvero felici, soddisfatti di stare al mondo quando si trasferivano a maloto, perché ad ogni secondo si presentava l'occasione giusta per elevarsi di grado e perché ogni anno, se la fortuna e la pazienza assistevano, mangiando il primo frutto maturo del melograno, si poteva di rettura diventare re. Ma ormai erano davvero troppi malotesi d'adozione e nonne. Ormai ogni autunno si rischiavano scazzottate, risse e furibonde per accapararsi il prezioso frutto. Così, già verso il decimo anno, i re si riunirono, d'accordo con la cittadinanza, per trovare una soluzione pacifica. Perché in fondo a nessuno conveniva rompere quel meraviglioso meccanismo per una banale rissa? E' vero, il re stava meglio degli altri, stava in un castello, ma anche gli altri finivano per passarsela benissimo e in fondo a non tutti interessava avere uno scettro reale, anzi, in tanti desideravano soltanto vivere in serenità e tranquillo benessere. Ma per evitare di allargare troppo le dinastie melogranate, cioè, volevo dire, altolocate, i re decisero in segreto di designare e privilegiare i parenti e in certi casi gli amici fidatissimi. Quando la melagrana era matura, stabilivano, quest'anno tocca a mio figlio, quest'anno tocca a mio nipote, quest'anno a mio nonno. Al quindicesimo anno si decise, per miracolosa concessione, di uscire dal solito giro familiare. Ma che dite? Lo facciamo entrare anche il bravo Micheluzzo nel giro? Non è parente di nessuno, ma meriterebbe, per come si mette sempre a disposizione. E aspettavano soltanto che il buon melograno concedesse il primo frutto maturo della stagione per preparare in pompa magna la cerimonia di investitura del nuovo re Micheluzzo. Certo, si cominciava a mugugnare un po' tra i cittadini, sempre tra parenti, sempre nella cerchia, sempre in famiglia, sempre solo amici degli amici, ma i mugugni sono ben tollerabili e tollerati. La rivoluzione no. Quell'anno però presentava un'anomalia. Si era già quasi a fine ottobre e gli alberi di melograno avevano già schiuso da parecchio i loro frutti, tranne quello a cui tenevano i malottesi. Se ne stava lì, fermo, fermo e dispettoso, carico di melegrane che non davano segno di volersi schiudere. Pareva che attendesse qualcuno che ancora non c'era, che ancora doveva arrivare. Sappiate che proprio otto anni prima una piccola formichina curiosa di nome Piccina prese molliche e bagagli e si incamminò. Ma dove vai? le chiese la brava mamma. Sai cosa contengono le distanze? Quanti passi farai per muoverti di un solo metro? Immagina poi di quanti metri è la terra e ti renderei conto che dovresti restare nel tuo confortevole formicaio con colazione, pranzo e cena assicurati ogni giorno e un tetto contro vento, neve, pioggia e sole. Mamma, rispose Piccina, se volevo starmene in cassaforte nascevo banconota e se ne andò. Mentre sfilava tra le file ordinate delle altre formiche, tutte interrompevano la loro incessante, lenta, monotona attività di magazzino e la additavano con disprezzo commiserazione. Soltanto perché non aveva scelto quello che avevano scelto loro e cioè di restarsene formiche per l'intera vita senza nemmeno chiedersi se c'era la possibilità di diventare altro anche soltanto per il gusto di saperlo, magari poi tornare a essere formiche, ma che so. Se una formica per esempio scopriva di potersi trasformare in un cavallo e le piaceva restarsene cavallo piuttosto che formica, ma che male c'era. Guardatela come parte impettita. Vuole scavare dentro di sé piuttosto che dentro la terra, così ha detto sua madre. Sputa nel piatto in cui ha tanto mangiato per tanto tempo. La formica piccina aveva i lacrimoni agli occhi mentre tagliava di traverso file e abitudini delle sue ex amiche, ma li tratteneva con orgoglio. E per orgoglio non era per quello che andava via, non era per disprezzare la vita o i gusti o le usanze o le scelte di nessuno. Era vero il contrario, erano tutti gli altri che la disprezzavano perché aveva deciso di dire no a loro e sì a se stessa. Così, piccina, si è appese alla coda di un cane della prateria che la trasportò alla fattoria a Bacena, dove abitava la famosa gallina dalle uova miracolose, Madame Cocò. A chi ne mangiava uno succedeva qualcosa. Alle formiche, per esempio, succedeva «Cocò, cocò, 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 non farlo, non farlo!» si allarmò, ma in ritardo la gallina. «Se una formica mangia uno delle mie uova miracolose si trasforma in…» Ma, ripeto, si affannò troppo tardi perché la formica piccina era già per mezzo entrata dentro il buco del guscio e gnom, 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 e spatapan! Si era trasformata in un'ape. «Cocò, cocò, cocò, eccoci, bella è servita!» la rimproverò Madame Cocò. Così si finisce a non chiedere il permesso di nulla. Trasformati! Trasformati e frastornati proprio come si sentiva piccina scombussolata con lo stomaco sotto sopra e la nausea. Mica ci si trasforma da formica in ape così senza controindicazioni. Uno deve dimenticarsi le cose di quando era formica e apprendere immediatamente a pensare da ape non più a zampettare sulla terra ma a provare il primo vibrante zzzante volo da un fiore a un altro impastato di polline nettari e colori vari. Buono questo nettare! Gnam 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 gnam! È ancora più buono il miele! Gnam gnam gnam! Piccina era una buona forchetta e non si tirava certo indietro al momento di scorpacciare ma come avete capito era desiderosa di andare avanti di scoprire di assaggiare quanti più piatti e vite possibili. così una notte che le altre api dell'alveare dormivano e russavano anzi zuffavano infatti non facevano ronf ronf ma zonf zonf in punta di zampette si allontanò nel buio e spiccò il suo volo di non ritorno più qui. Tuttavia per quanti voli un'ape non può non può allontanarsi troppo dall'alveare da se stessa se proprio vuole recarsi lontanissimo occorre un aiuto un passaggio già la piccina sbandava per la fatica le si erano inceppati tutti i radar di volo era rassegnata a precipitare e precipitò su un cinghiale su un cinghiale si che cominciamo a ragionare in fatto di distanza ti fai scorrazzare con decisione a destra manca per bosche e colline e di nuovo bosche e vallate e poi quell'anno i cinghiali si erano fatti più coraggiosi spavaldi intraprendenti e si spingevano ogni giorno fin dentro i villaggi così piccina avvinghiata la setola del maiale cornuto all'alba intravide i comignoli fumeggianti e le lucine accese da presepe del villaggio primo ultimo se sì era un villaggio che aveva due nomi se venivi dalla città si chiamava primo perché era il primo villaggio che incontravi uscendo dalla città se venivi dalle colline e dal bosco si chiamava ultimo perché era l'ultimo villaggio che incontravi prima di giungere in città il cinghiale trottava come un bisonte nell'unica strada del paesino ancora addormentato e uno scossone più violento fece capi tombolare la piccola ape dentro un enorme lago di cacca di mulo ma non era una cacca di mulo come le altre no no questa profumava perché era la celeberrima cacca del mulo milo o milo mulo che mangiandola ti trasformava in qualcosa ma in quale qualcosa non si poteva sapere prima di averla mangiata e a dire il vero in pochissimi erano stati trasformati dal bizzarro potere del mulo perché in pochi hanno voglia di mangiare cacca diciamocelo anche se profumata soltanto coloro che non ce la facevano più a essere quello che erano ma proprio più 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 provavano il rimedio soltanto loro fino a questo momento un rospo un lombrico uno scarafaggio soltanto loro e qualcuno che ci era cascato per puro inconsapevole caso come la cavalletta di due anni prima e come adesso la nostra ape piccina che mentre precipitava come tutti il coloro che precipitano teneva la bocca aperta spalancata in un disperato così le si riempì il pancino di sana cacca di mulo milo e e e si ritrovò acula un'aquila testa bianca detta anche pescatrice perché tutte le aquile come lei hanno la testa di piume bianche e vanno a pesca sul lago la domenica in gita con le amiche ed era proprio domenica quel giorno ma come faceva saperlo piccina in quel trambusto mi chiedete forse teneva forse il conto dei giorni su una gendina ma no era l'istinto la fame particolare la voglia di pesce che le faceva dire con certezza che era domenica e che le amiche aquile la tendevano sui cieli del lago per la pesca grossa così piccina aprì le immense ali con decisione maestosità come non avesse mai fatto altro e si alzò in volo verso la montagna del lago di montagna che si chiamava così perché il primo che l'aveva scoperto non possedeva molta immaginazione e quando i soliti curiosi gli chiesero ma insomma come si chiama questo lago e gli rispose con la risposta più ovvia è il lago di montagna e i curiosi dissero scontato infatti il secondo nome del lago di montagna è scontato e proprio lassù sull'alta rupe che dominava il lago di montagna o lago scontato tre compagne attendevano l'aquila piccina sei in ritardo allora si va piccina rispose senza nemmeno riflettere si va ed era l'istinto che la guidava quando uno è immediatamente dentro l'istinto non c'è nemmeno bisogno di pensare perché viaggia all'unisono con il sole e con l'aria che non si vede ma c'è e non hai bisogno degli occhi per vederla o delle mani per toccarla perché la respiri e quello è l'istinto la consapevolezza innata che è arrivato il momento di andare a pescare e giù su trote luci e salmoni che avevano l'ardire la sventura l'avventatezza di luccicare al sole sbattendo troppo le code perché ormai piccina e le sue amiche piombavano su di loro era un attimo di pensarlo e di farlo e zack con inesurabile chiusura tenaglia i pesci malcapitati si ritrovavano già a volare tra gli artigli di acciaio delle aquile facendo un'esperienza unica per un pesce ammirare il mondo in panoramica ma che non avrebbero mai potuto raccontare a nessuno passò così piccina un meraviglioso periodo di vette altezze e grigliate gioiose di pesce e mentre digeriva una di quelle fantastiche e grigliate su una vetta innevate scintillante al tramonto piccina capì che il nome piccina non andava proprio bene per un enorme aquila capì che era giunto il momento di cercare il suo vero nome il vero nome che non è mai il nome che ci danno gli altri ma quello che scopriamo e ci diamo noi stessi è quel nome che giunto a un certo punto della vita e delle trasformazioni uno dice ma che ci faccio questo vecchio nome che neanche ho scelto io io sento proprio di non essere Giovanni io so di essere Filippo io sento proprio di non essere Gisella io so di essere Concetta io sento proprio di non essere Giulio io so di essere Rita ecco piccina di fronte a quel maestoso panorama di vette innevate vallate rosate profonde uno di quei panorami che ti mettono a nudo ogni cosa sotto gli occhi piccina ebbe la certezza di non essere più piccina di non poterlo più essere di non volerlo più essere perché adesso era un'altra cosa un altro essere e l'essere di prima forse era ancora dentro di lei ma forse più probabilmente semplicemente non c'era più si era trasformato da formica in ape in aquila la formica era passata e non c'era più e l'aquila ora era o era ora a seconda se prima leggete la parola di sinistra e poi quella di destra o prima di destra e poi di sinistra si possono leggere in tanti modi le parole comunque piccina decise di chiamarsi Larì perché era un nome che le metteva allegria e si sentiva che se qualcosa era sopravvissuto del suo passato era proprio quello spirito fresco giullaresco allegro che ora lo sapeva era il punto fermo della sua anima che non era un'anima piccina ma un'anima Larì lo era sempre stata soltanto che le avevano affibbiato il nome sbagliato sparse subito la voce tra le sue colleghe aquile di non chiamarla più piccina ma semplicemente Larì e le vette si fecero più luminose maestose innevate di neve più bianca le amiche aquile quando la cercavano per invitarla alle consuete scorribande riempivano l'aria di Larì 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 e vi renderete subito conto che non è la stessa cosa che riempire l'aria di piccina 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 vedete come subito cambia l'atmosfera non c'è nemmeno paragone i nomi creano il mondo i nomi bisogna darsi gli allegri luminosi per circondarci di sana spavalda vitale produttiva allegria a dire il vero ho inserito produttiva per farmi benvolere dal nostro mondo che capisce e considera soltanto le cose produttive in particolare unico modo quelle che producono denaro quindi mi uniformo uniformandomi in allegra uniforme Larì 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 nella foga di un inseguimento all'eprotto perché ogni tanto fa bene anche variare la dieta Larì sbatte un'ala contro il ramo di un noce no di un pino no di un castagno no l'aquila Larì non poteva che sbattere contro il ramo di un larice e si ritrovò trafitta dalle punture di un cespuglio di rovi con l'ala spezzata oh come rischiava di finire in modo molto molto poco allegro l'avventura di Larì ma non poteva finire così perché a malotto il melograno aspettava proprio lei Larì per schiudere la sua prima melagrana di stagione e non passava proprio sotto l'arice in quell'istante il famoso Giambattista che dava del tu alle aquile mentre le aquile gli davano del lei non era forse quello stesso Giambattista che offriva loro ricovero quando si smarrivano o si stancavano o per l'appunto come nel caso di Larì si spezzavano le ali con cautela Giambattista districò dalle spine l'aquila e se la mise in braccio come un neonato Larì non capiva bene cosa succedesse se era buono o non era buono se poteva essere molto crudele che quello se lo portasse in giro magari chissà dove sapeva soltanto una cosa che nulla più la trafiggeva ed era già tanto per il resto si disse prima di svenire per la stanchezza e il dolore della larotta per il resto penseranno papà universo e mamma infinita e chiuse gli occhi quando riaprì gli occhi Larì stava al calduccio dentro una coperta di lana accanto al cammino acceso e pensò mi vorrà fare allo spiedo ma girando il becco si accorse che altre quattro colleghe si trovavano nelle sue stesse condizioni e quindi al massico prima toccava loro ti sei svegliata finalmente che sonno hai fatto hai dormito tre giorni a chi tocca per prima si informò Larì per prima e per cosa non siamo qui per essere fatte allo spiedo ma no siamo qui perché siamo molto fortunate se il carissimo Gian Battista non passava per i luoghi delle nostre disgrazie ci lasciavamo le penne e chi è sto Gian Battista ma Gian Battista ma come l'unico uomo al mondo che vuol così bene alle acuile per dare loro del tu mentre noi acuile gli diamo del lei e perché e perché voi il lei a lui per non dargli la stessa cosa che lui dà a noi il tu ce lo dà già lui così noi abbiamo scelto il lei ah per tutto il mese Larì se ne stetta al calduccio coccolata dalle morbide dita di Gian Battista che quando la guardava dolce con i suoi occhi cristallo azzurri e i suoi riccioli biondo castani sulle spalle che pareva un dio greco non dico Zeus ma Apollo sì quando la guardava così Larì avrebbe tanto voluto essere un uomo femmina cioè una femmina di uomo invece che di aquila e stare sempre per sempre con lui in quel rifugio come sua sposa Gian Battista raddoppiava la dose di coccole soltanto a lei quasi ne indovinasse i sentimenti meno male che le altre quattro aquile furono dimesse prima perché già si innalzavano le gelosie ed era pronto un complotto per uccidere per uccidere il presidente cioè vabbè no scusa quella è un'altra storia per uccidere il magistrato no no anche quella è un'altra cosa per uccidere la consorella aquila che rubava l'attenzione più attente del benefattore una sera di febbraio che fuori c'era bufera Gian Battista rientrò con sotto il giubbotto rosso d'alpinista un'aquila anziana e malmessa forse non ce l'avrebbe fatta sopravvivere ma l'avevano sottovalutata perché ingurgitati pochi bocconi di carne rinfrancata dal tepore gioioso della fiamma che crepitava divenne una comare ciarliera eloquace e non smise più di raccontare storie su storie meraviglie su panzane i fatti di questi i fatti di quello fin quando non venne al colpo di scena che ormai da 14 anni provocava una migrazione continua verso la terra delle meraviglie verso il paese della cuccagna verso l'eldorado democratico accogliente prosperoso che prendeva il nome di Maloto la vecchia aquila raccontò alla rie giambattista che capiva benissimo i suoni aquileschi aquileschi o aquiloni o aquilosi bisognerebbe chiedere l'accademia della crusca dicevamo la vecchia aquila raccontò per filo e per segno la leggenda del melograno miracoloso e di come Maloto si fosse arricchita e ingigantita di smisura grazie all'albero magico ma ci sono altre aquile pescatrici intervenne la rie alla quale luccicava lo sguardo perché l'era venuta una gran voglia di andare lì e dici che potrei andarci anche io a dare un'occhiata da che parte si trova è lontano subito una frecciatina le punse il cuore guardò Giambattista e si accorse di averlo rattristato perché anche lui teneva a lei pur trattandosi di un amore tra uomo un'aquila e avrebbe voluto che restasse così cambiò discorso dicevo per dire se un domani magari che so tra un anno metti mi venisse voglia e la vecchia aquila spiegò che ormai a Maloto non mancava nessun tipo di razza animale da ogni continente da ogni continente e anche gli uomini da ogni continente se continuava a crescere a quel ritmo Maloto si sarebbe espansa su tutta la terra e avrebbe inglobato tutte le città e tutte le terre emerse e allora quando le terre emerse non sarebbero bastate più avrebbero trovato il modo di costruire città subacquee e Maloto sarebbe diventato il nuovo nome del pianeta terra grazie a quel melograno che assicurava ricchezza e crescita continua certo che avrebbe trovato altre aquile come lei la rì aiosa sui laghetti artificiali dalla parte est e della parte est poteva benissimo andarci passarono i giorni e la rì diventava sempre più inquieta nervosa ormai era gualita e sbatteva le ali furiosa ma quando Gian Battista le apriva la finestra per lasciarla libera non si decideva a partire si appollaiava sul trespolo e guardava lontano in direzione di Maloto senza avere il coraggio di raggiungerla una mattina di fine aprile mentre se ne stava con quel desiderio da realizzare che le rodeva le piume le si avvicinò a Gian Battista piccola mia il tuo cuore ormai è lontano quindi devi andare vai a Maloto e galoppa galoppa veloce galoppa la rì lo fissò strabiliata il suo povero Gian Battista era impazzito galoppa ma come fu e non fu Gian Battista le fece tre strani gesti madici sulla testa e la rì si ritrovò con il vento sulla criniera in una corsa entusiasmante verso fondo valle e quando girò il collo per guardare alle sue spalle quello che c'era prima non c'era più e Gian Battista era bello scomparso percorse prati superò ponti costeggiò mari e laghi mangiò polvere e bucò l'asfalto fino a giungere a notte fonda alle porte di Maloto c'era una gran confusione un vai e vieni continuo di gente carretti squadre di gatti bancarelle squadroni di cani lucci e ceccanti frotte di colombe musica assordanti coppie di orse in vacanza file di persone e ristoranti negozi pieni così volpi in abito da sera e un miliardo di maxi schermi che mandavano in onda la stessa immagine l'immagine di un alberello carico di melegrane ostinatamente chiuse e tra un boccone e un altro un acquisto e il successivo una ballata e l'ennesima l'argomento era sempre ma quando si sarebbe deciso a schiudersi l'agoniato frutto ad un certo punto il comitato dei re stufo per l'attesa aveva tentato anche un imbroglio attaccando con lo scotch al melograno miracoloso una melagrana già aperta di un altro albero ma non avevano tenuto conto delle videocamere nascoste alle quali nessuno può sfuggire così erano stati immortalati nel loro tentativo ed esposti al pubblico ludibrio soltanto per tre giorni però perché i malotesi oriundi e non si erano immedesimati e in fondo quei poveracci di re non avevano fatto altro che cercare di tagliar corto con la manfrina capricciosa del melograno che costringeva tutti a turri pazzeschi di veglia per non lasciarsi sfuggire l'attimo della schiusa ma appunto il piano andò in fumo così la cavalla larì avanzò inosservata in quella bolgia e tra spinte pestate di piedi colpi di coda e piccoli morsi sulle orecchie di chi la intralciava giunse in vista del famoso albero di melograno in quel momento una melagrana a mezza altezza propria portata di mano si schiuse meravigliosa e i suoi chicchi rossi sgargianti brillarono alla luce dei riflettori sì era anche il momento dell'alba ma la luce dei riflettori è più importante ci fu un enorme ahhh oh di ammirazione e sollievo insieme che lo sentirono di sicuro anche al polo sud e ogni cosa di ogni ordine razza provenienza grado gradino si bloccò tutto si bloccò il re muniaio che dormiva assieme al prescelto Micheluzzo in pianta stabile sotto il melograno nel suo letto a baldacchino giallo fu svegliato di soprassalto da mille spintoni si è schiuso è il momento sveglia Micheluzzo deve cogliere la prima mela cioè no la prima mela quella è un'altra cosa deve cogliere la prima melagrana matura e il mugnaio e Micheluzzo si rizzarono già belle pronti perché dormivano ben vestiti pronti appunto ad ogni repentina evenienza così Micheluzzo allungò la mano e fece per staccare la melagrana e il frutto non si staccava ostinato nel concedersi fino in fondo un brusio si levò alto tra i malotesi così alto che lo sentirono di sicuro anche sulla faccia nascosta della luna finché il pretendente al quindicesimo trono che era quella a cui premeva più di tutti trovare la soluzione a tale urgenza migliorò di molto le sue prestazioni intellettive quel genio lì disse forte la mangerò direttamente dall'albero sarà come coglierla ne seguì un dibattito sulla tradizione sull'opportunità di importunarla ma le tradizioni sono fatte per essere superate ma forse l'incantesimo prevede proprio raccogliere il frutto non il mangiarlo ma in fondo chi può saperlo nessuno se non si prova si decise quindi di provare fu allora che sciolti e prosciolti dal dibattito risolto si concentrarono sulla melagrana e e e una cavalla bianco pezzata stava spiluccando la melagrana come fosse una qualsiasi pannocchia di mais come fosse un qualsiasi grappolo d'uva come fosse una normalissima spiga di grano rimasero tutti con gli occhi spalancati dal terrore e la bocca aperta fino a terra per la vergogna una cavalla c'era arrivata al da farsi prima di loro rimuginatori e cervelloni e lo aveva fatto non curante e indisturbata e adesso cos'altro capitava ora la cavalla si era gettata a terra e scalciava nitrendo da spavento come se il frutto fosse avvelenato e nitrisci di qua e scalcia di là e contorciti ancora di qua sotto gli occhi increduli dei presenti e del pubblico davanti ai maxi schermi si trasformò si trasformò in una nuvola bianca e vaporosa da prima da prima una muletta insignificante ma mano a mano che si alzava si espandeva si espandeva si espandeva fino a coprire l'intera maloto sembrava di avere sul capo un'enorme nuvola di zucchero filato che si fece blu e poi rose e poi di nuovo blu e turchese e poi nera 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 e cominciò a tuonare a piovere che tutta l'acqua dell'universo sembrava concentrata lì e i malotesi dovettero dar fondo alla loro massima velocità per sbarrarsi in casa e non annegare burrascò per tre giorni e quando finì la gente mise il naso fuori dalla finestra e rimase per la seconda volta in tre giorni di stucco ogni cosa era viola case strade alberi persone animali cielo terra tutti viola e furono presi da un brutto presentimento tre ore dopo il primo re il re mugnaio annunciò ad altoparlanti unificati che il melograno miracoloso era stato spazzato via dalla tempesta e con esso la possibilità per malote e malotesi di progredire all'infinito fu un duro colpo un momento di depressione collettiva che frenò entusiasmi e vitalità che investì il corso degli eventi e delle direzioni se prima si andava tutti a maloto ora si fuggiva da maloto e fu una fuga talmente enorme che maloto tornò a essere il piccolo semplice e ignoto villaggio che era sempre stato che era sempre stato prima rimase soltanto una leggenda sulla carta geografica del tempo molti inverni successivi ripassò lo stesso viandante artefice della nostra storia all'inizio della storia e i più anziani lo riconobbero subito e gli raccontarono i fatti il vecchio viandante scosse la testa lasciavate chiese allora che fosse il melograno a decidere secondo il destino o eravate voi a scegliere per il melograno beh insomma dopo i primi anni il balbettò più forte nel balbettio generale il mugnaio dopo i primi anni abbiamo cercato diciamo di aiutare il melograno nella scelta ecco non pensavamo che fosse così suscettibile le cose bisogna pensarle invece bisogna pensarle e pesarle e soppesarle e conoscere le formule che portano alla fortuna e quelle che conducano alla disgrazia è lì tutto scritto da qualche parte una cavalla che mangia una melograna si trasforma in tempesta lo sanno tutti i saggi avreste dovuto guardarvi bene dalle cavalle e dal farle avvicinare all'albero sapendolo e in fondo non potevate farci nulla perché il melograno magico aveva deciso di porre fine alla vostra fortuna e sapeva che la cavalla sarebbe giunta e che solo a lei avrebbe concesso il primo frutto e in tutto questo che c'è rimasto disse Mimmo soltanto un ricordo un soffio di felicità un riflesso di sole sulle spalle alle spalle e un ruscello un ruscello chiese il viandante sì un ruscello figlio di quell'enormità d'acqua che per poco non ci uccideva tutti un rigagnolo d'acqua che chissà come una volta ne ho seguito il corso giunge beato fino al mare e sembrerebbe impossibile che riesca tanto è talmente esile lento minuscolo fragile che noi lo chiamiamo affimicola affumicola la formica saputo questo il viandante sorrise come se conoscesse la storia di piccina la formichina che divenne la ri salutò i presenti e si lasciò malotto alle spalle eccoci qua vi comunico che la favola o meglio la fiaba anche se secondo me si può definire favola perché è una morale qui dentro c'è è come se c'è